Furio Colombo vi ha aspettato, tocca a lui, prego, Furio Colombo. Non troppo è parlare della comicità, no? È diverso. Beh, io mi meraviglio che si possano sentire, leggere, scrivere delle cose così elementari come il fatto che non si può dire negro, nel mondo della caccia al nero, nel mondo in cui li lasciamo morire in mare, nel mondo in cui non ricevono soccorso quando ne hanno bisogno, nel mondo in cui ci è voluto un architetto italiano e un medico italiano per andare a fare l'unico ospedale di bambini che poteva esserci in Africa in questo momento. Mi domando come si possa essere così semplificanti come ha fatto la Gardini che pur avendo conosciuto teatro, musica, lavoro, non soltanto politico, quando entra in politica prende la frase elementare del suo partito che su questo è sempre stata elementare. Quale? Quella del dire, no, per carità, la libertà, possiamo dire quello che vogliamo. Non è il caso di pensi. La giusta replica di Elisabetta Gardini ma un flash perché dobbiamo ascoltare Pia Medeo. è un problema per il quale capisco che alcune cose possano succedere e naturalmente sono grato a Concita per aver detto le cose e al professore per aver detto le cose che andavano dette qui ma non si può essere fingere l'ingenuità del dire, no scusami, mi tocca, non si può chiudere fingendo l'ingenuità di dire, Dio mio non si può dire negro, cosa potremmo fare? Li stanno linciando in America. Le parole portano... Avete visto la morte di Floyd con il ginocchio del poliziotto sul collo? Perché? E volete andare in giro a dire negro per scherzo? Perché le parole portano con sé un simbolo, un mondo, un universo di valori. Ora vi farò...